Intanto ci sono ristoratori e ristoratori, ci sono gli aperturisti e ci sono quelli con molto buon senso che capiscono altre posizioni in questo momento. Io capisco che ci sia una parte politica che li fomenta particolarmente, quindi Matteo Salvini che vede in questo cambiare di colori continuo probabilmente il capriccio di un ministro e non capisce invece quella che è la necessità e l'urgenza del momento. Però va detto che siamo in un cortocircuito, nel senso che possiamo anche riaprire tutto, ma se in questo momento abbiamo fatto dieci passi in avanti, riapriamo tutto, in due settimane rifacciamo cento passi indietro. In un momento in cui c'è una campagna vaccinale in corso così importante, io dico a questi ristoratori, possiamo anche aprire, apriamo un mese, ma tutto questo va ad impattare sulla campagna vaccinale. Ricordiamo che le riaperture ora sono più rischiose perché siamo tutti a variante inglese, quindi abbiamo una variante che si attacca più velocemente ed è anche più letale. E non sappiamo poi, tra l'altro, se siamo esposti a nuove varianti. E tra poco ne parleremo con la professoressa Viola. Senti, una cosa...